Luca Greco, senza dubbio vigilia di una partita molto importante. Piloni in conferenza stampa ha detto voglio una risposta caratteriale, esigo una risposta caratteriale dalla squadra. Sì, sicuramente non è una partita facile, però dato che nell'ultimo tre partite non abbiamo fatto quello che ci aspettavamo, siamo pronti per fare bene e per raggiungere la vittoria. Anche perché il Foggia senza la penalizzazione prima di otto, poi di sei punti, avrebbe tante possibilità di lottare per il playoff? Il Foggia è una bella squadra, quando è venuto qua ha giocato un buon calcio, quindi sicuramente non è facile. Però comunque abbiamo lavorato bene in settimana e siamo pronti per affrontarla nel migliore modo possibile. Poi tra l'altro non conta tanto il sistema di gioco, i numeri sono relativi, perché si parla tanto di questo cambiamento di modulo. Tu come la vedi? Sì, ma secondo me siamo pronti per fare qualsiasi modulo, basta che gli interpreti rispondano bene, quindi qualsiasi modulo facciamo, secondo me possiamo far bene. Luca Crecco, come vive il suo momento? Perché è stato oggettivamente utilizzato poco finora. Sì, da Perugia non sono più entrato in campo, sicuramente non è un momento facile per me, però sono sempre stato sul pezzo, mi sono sempre allenato, ho sempre dato il mio, quindi spero che comunque anche adesso a Foggia mi ributti nella mischia. Anche perché finora non ti abbiamo mai visto nel tuo ruolo naturale, quello di Mezzala. Sì, è vero, ho fatto solo 20 minuti a Padova, Mezzala, il resto solo Terzino e Terno in alto. Dove mi mette il mister diciamo gioco, spero che magari Mezzala possa fare ancora meglio di come mi sono espresso negli altri ruoli. Senti, questa è una partita secondo te importante per capire se il K.O. pesantissimo col Brescia è stato solo un incidente di percorso o il segnale di un calo preoccupante? No, ma secondo me è stato un blackout che abbiamo avuto con il Brescia, perché comunque poi abbiamo risposto bene nel secondo tempo, quindi sono sicuro che adesso a Foggia faremo una buona prestazione. Poi, insomma, stadio caldissimo. Sì, stadio caldissimo. O si tirano fuori gli attributi, ha detto un'altra cosa in realtà Pilonno, non la ripeto, però avrai capito. Sì, si, si, si tirano fuori le palle, se no non andiamo a nessuna parte.